Il pomaretto è partner in questo progetto, un progetto ambizioso nell'ambito della programmazione europea Alcotra, insieme al comune di Carema e insieme ai diversi partner della Val d'Aosta e in particolare dei cugini francesi. Sicuramente sarà importante questo progetto per raccogliere esperienze dagli altri partner e riteniamo che se abbiamo raggiunto l'obiettivo di essere stati finanziati su questo progetto lo dobbiamo al soggetto capofila, alla città metropolitana di Torino che con grande impegno ha voluto portare il risultato di questo progetto. Per Pomaretto è previsto un finanziamento per la realizzazione e recupero all'interno di un vigneto sperimentale di alcuni ciabot per la realizzazione di un centro di degustazione del nostro vino, il vino Ramie che ha la sua doc nel Pinerolese ma che diversi interventi di recupero del territorio ha visto impegnata la mia amministrazione in questi anni.